Esercizio del ponte Il mantenimento della salute della schiena è facilitato dalla presenza di una muscolatura lunga, forte e ben bilanciata. A questo scopo è necessario rinforzare, oltre che la muscolatura della parete addominale, anche la muscolatura posteriore, ovvero quella della zona lombare, i quadricipiti, i glutei, i muscoli posteriori della coscia. Attraverso l'esercizio del ponte potrai rinforzare in maniera globale la muscolatura del tronco inferiore e delle gambe. Posizione di partenza Supini con gli arti inferiori leggermente divaricati, le ginocchia flesse ed i piedi appoggiati a terra alla stessa larghezza delle anche. Azione Attivare il trasverso dell'addome Espirando, sollevare il bacino da terra contraendo i glutei e la muscolatura addominale. Possibilmente arrivare a formare una linea retta dal mento alle ginocchia. Tornare alla posizione di partenza lentamente, inspirando. Si consigliano tre serie da cinque ripetizioni ciascuna, con un minuto di riposo tra una serie e l'altra.